La principessa di casa è Alice con Billy, il cavallo che ha portato al campionato italiano, il papà Carlo è pronta alla gestitancia, carica Billy, partita! Splendita! Ricchiamo l'ingresso, l'Alo Millinia non ha perso un metro! Stanno viaggiando con un secondo di differenza, ma non vi diremo di chi è il secondo in meno. Eh! Eh! Grazie. Grazie. 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2 per Alice, Alice Vecchini.